Ok, con i potenti mezzi della tecnologia ce l'abbiamo fatta. Allora, io buongiorno, buonasera, sono Arrighetta Andrea, lei è Elena Casalini, insieme a Clara Mirucci e a Rossella Pansini, siamo del Laboratorio di Archeologia dell'Architettura e Restauro dell'Università degli Studi di Siena e presentiamo appunto, abbiamo pensato di presentare appunto per questa occasione alcune riflessioni e alcune sperimentazioni che abbiamo fatto in in questo periodo, su modelli tridimensionali generati attraverso la nostra strumentazione che utilizziamo al laboratorio, che è una strumentazione, appunto dopo lo presenterà brevemente Elena, che genera appunto modelli tridimensionali da fotografie, cioè una strumentazione si basa appunto sulle principi della fotogrammetria e genera appunto modelli tridimensionali da riflette fotografiche. Io vi farò un breve incipit prima di passare ai casi studio che appunto presenterà Elena, su quelli che sono un po' alcune riflessioni che abbiamo elaborato noi, quindi sono riflessioni soggettive che portano diciamo un po', che vengono fuori dai nostri casi studio, su quelli che sono un po' i problemi e i fattori in questo caso che hanno inciso maggiormente sulla scelta dei metodi comunicativi che poi abbiamo adottato appunto per comunicare il prodotto tridimensionale. Allora un primo fattore sicuramente che è inciso nella scelta dei metodi comunicativi è stata la disponibilità economica perché ovviamente la possibilità di avere un certo budget a disposizione o la possibilità di avere ovviamente un budget illimitato permette appunto delle scelte sia in fase di scelta della strumentazione da utilizzare ma anche in scelta ovviamente del software che poi deve essere utilizzato per la comunicazione dello stesso. La preparazione tecnica del personale è stata ovviamente un altro fattore fondamentale, di noi per esempio nessuno aveva una preparazione tecnica per poter eseguire modellazione, quindi la modellazione è stata scartata principalmente oltre ovviamente per esempio per le disponibilità economiche anche per la preparazione tecnica del personale, quindi è un altro fattore che ha inciso diciamo in maniera fondamentale su quelli che sono state le scelte. Altro fattore è la richiesta della preparazione tecnica della committenza, noi solitamente quando lavoriamo ci interfacciamo principalmente con una committenza, difficilmente o almeno negli ultimi tempi non è capitato di interfacciarci con musei o comunque veicoli di trasmissione del dato al grande pubblico ma piuttosto con la committenza e con gli addetti lavori. Per quanto riguarda la committenza uno scoglio che abbiamo trovato e poi sarà maggiormente precisato è appunto la sua preparazione tecnica, cioè il fatto di poter gestire e saper utilizzare determinati strumenti oppure no. Le caratteristiche dei prodotti generati a rilievo ovviamente ogni metodo comunicativo si interfaccia un po' alle caratteristiche del prodotto generato, quindi un prodotto con una densità maggiore o con una densità minore avrà un suo strumento comunicativo o ovviamente l'operatore dovrà effettuare delle scelte per decidere se presentare il modello con un uvola di contidenza e scegliendo un metodo comunicativo oppure altro. E poi ovviamente le caratteristiche dell'utenza finale, appunto abbiamo specificato prima, ovviamente altre possibilità. Quindi noi per comunicare 3D in archeologia avevamo questa esigenza, da un lato la comunicazione del modello 3D e dei prodotti derivati da questo, in questo caso per esempio i nostri modelli 3D creano DEM, wireframe 3D, sezioni e così via, e quindi innanzitutto dovevamo cercare di comunicare il modello stesso. Accanto a questo però dovevamo comunicare anche il dato archeologico, cioè fondamentalmente quello che viene fuori dalle analisi archeologiche, dall'analisi archeologica stessa alla caratterizzazione delle tecnostruttive, alle cronotipologie e così via. Quindi quello che è stato il risultato dall'integrazione di questi due tipi di comunicazione è quello che noi definiamo il modello 4D, ovvero un modello che permetta di integrare quello che è il dato archeologico, quindi il fattore tempo, la quarta dimensione, all'interno di quelle che sono appunto le tre dimensioni che ben vengono rappresentate dai modelli tridimensionali e la nuvola di punti appunto che noi generiamo. Ovviamente il modello 4D poi si doveva interfacciare con diverse utenze, in questo caso le utenze principali erano due, da un lato appunto il grande pubblico con il quale appunto esistono dei canali ben precisi che però, come ho spiegato precedentemente, non ci hanno riguardato in prima persona perché non ci interfacciamo noi principalmente con il grande pubblico e con gli addetti ai lavori, invece dove i canali sono stati un po' vagliati per vedere quale potevano essere gli strumenti che più si adattavano diciamo alle nostre esigenze. Allora in questo caso ci siamo posti innanzitutto un problema, cioè per questi due tipi di utenze creare due prodotti differenti, utilizzare una comunicazione diversificata oppure per lo stesso prodotto, oppure utilizzare prodotti differenti con una comunicazione diversificata, quindi utilizzare entrambi i canali. E un altro quesito è la committenza dove si pone in questo caso, negli addetti ai lavori o nel grande pubblico. Per quanto riguarda la committenza diciamo e noi ci siamo un po' trovati, non solo noi diciamo, è un'esigenza abbastanza comune perché si occupa di archeologia e dell'architettura, anche parlando appunto con Andrea Fiorini è uscito un po' questo problema. Il fatto che quando ancora non si parlava di 3D diciamo il liter diciamo di lavoro era più o meno questo, cioè si partiva ovviamente da lo studio di un edificio storico, già la committenza ci diceva appunto di studiare un edificio storico, noi facevamo il nostro rievo strumentale bidimensionale, le analisi sul campo solite, quindi stratigrafia, caratterizzazione delle tecniche, sistemi costruttivi e via e così via e poi andavamo ovviamente a produrre alcune elaborate appunto in 2D, quindi piante, sezioni, prospetto, ortofotopiano, analisi stratigrafiche e così via da consigliare alla committenza. E adesso c'è il 3D che cosa succede? Succede che abbiamo lo stesso edificio storico da studiare, ci facciamo un bel rievo strumentale tridimensionale, quindi una nuvola di punti ben definita, densa, che ci aiuti nelle nostre analisi sul campo, quindi ci dia delle informazioni maggiori da utilizzare appunto per queste analisi e poi alla fine la committenza non viene altro a richiedersi gli stessi prodotti. Quindi piante, sezioni, prospetti, ortofotopiani e così via. Cioè praticamente il litere è più o meno lo stesso, le richieste sono praticamente lo stesso, l'unica cosa che cambia è che noi facciamo un rievo strumentale tridimensionale per poi ritornare a questo punto al bidimensionale. Quindi a questo punto uno dei problemi che molto spesso ci dà la committenza è il fatto che noi abbiamo questo modello tridimensionale, questi sono i prodotti che noi sappiamo utilizzare, che ci servono, quindi che ce ne facciamo del modello tridimensionale. E quindi abbiamo un po' riflettuto su questa cosa, abbiamo cercato di produrre una serie di esempi che potevano interfacciarsi, che potevano essere utilizzabili anche da loro stessi perché semplici e perché ovviamente permettevano di integrare tutto quello era il nostro lavoro. Adesso passo la parola ad Elena che ci parlerà di questi due esempi che hanno caratterizzato un po' il rievo di quest'ultimo anno. Io vado a illustrarvi due esempi dei lavori che il nostro laboratorio ha portato avanti, fanno parte del lavoro che noi abbiamo fatto e dal quale poi sono scaturite le considerazioni che in parte ha fatto Andrea che poi riprende la mia conclusione. Io parto dal rilievo di due torri che sono state fatte a Siena per un progetto di tesi di laurea e sono due torri situate nel centro di Siena, nel gruppo di Pia Montanini e l'interesse dato da questi due edifici è in particolare riferito al fatto che presentano paramenti sia la torre A sia la torre B, presentano nei paramenti elementi di rimpiego romano, databili al periodo romano, secondo fonti di archivio riferibili a un arco, l'arco di San Donato che doveva essere sito in questo luogo. La metodologia utilizzata per il rilievo dei due torri è Zscan, un software non open source che prevede l'utilizzo di un treppiede di una macchina fotografica calibrata appositamente e di una barra che permette l'utilizzo della fotografia secondo i criteri fotogrammetrici per restazione di nuvole di punti e poi la resa volumetricia in 3D. All'operatore nel programma lascia la possibilità di intervenire per quanto riguarda la densità della nuvola di punti, quindi anche l'accuratezza del dato, viene lasciata la possibilità di selezionare l'area di interesse e poi appunto la creazione di modelli tridimensionali parziali che vengono successivamente uniti tramite un successivo software ZMath che permette eventualmente anche tramite l'utilizzo di punti rilevati con una stazione totale, in questo particolare caso no, volendo comunque una delle opzioni che il programma permette di fare. Il prodotto finale è una volumetria 3D, ora in questa torre manca la parte superiore perché considerare che questi sono edifici un po' problematici in quanto hanno una continuità di vita senza soluzione di continuità, tuttora vengono abitate e giustamente i privati non sempre sono disponibili a lasciare che uno riprenda a casa propria. I prodotti generati, i prodotti che questa tesi è riuscita a generare, oltre al prodotto del wireframe 3D, è il digital vibration model, il DEM, sempre tramite ZMath. Ovviamente il wireframe 3D, in quanto il permette di disegnare, di applicare il disegno CAD a una nuvola dei punti, che poi è stato impiantato sulla pianta in generale. Altra possibilità che viene data all'operatore è di analizzare stratigraficamente l'elevato e quindi creare sull'ortofoto poter lavorare e poter individualizzare le fasi dell'edificio. Come comunicare tutti questi singoli risultati è un problema, in quanto ortofoto, DEM, modello 3D sono presi singolarmente, sono file che hanno estensioni pesanti e diverse. Quindi il problema che questa tesi ha posto era come riuscire a comunicare tutto insieme il dato che alla fine eravamo riusciti a ottenere. Sempre l'operatore che ci ha fornito i due programmi con i due software con i quali abbiamo lavorato ha fornito anche Site Manager, che è un ottimo prodotto per la comunicazione del dato, in quanto con pochissime semplici mosse permette di creare lo stream del prodotto 3D e è estremamente vantaggioso in quanto permette di legare allo stream del prodotto 3D lo stream anche del DEM, del disegno CAD, di qualunque cosa tramite questi piccoli elementi sferici che vengono inseriti nella nuvola 3D. Sono dei link, quindi non viene caricato il file e quindi non si creano file da estensioni estremamente pesanti, poco maneggevoli e poco trasportabili. Come si è visto prima, è un problema che capita, è sentito e può essere linkato anche con informazioni banche adatte già online. I vantaggi ovviamente sono appunto la creazione di un file che è trasportabile, che è facile, che può lavorare anche con CAD e con altri programmi, è estremamente veloce per quanto riguarda l'elaborazione. Gli svantaggi sono, prima di tutto il fatto che non è un software open source e che quindi il proprietario ovviamente decide un costo parzialmente accessibile. Non sempre i file CAD sono importabili, specialmente se presentano archi esplosi o sono estremamente complessi, dà un po' di problemi nell'importazione del file CAD e purtroppo non tutti i formati possono lavorare sul site manager. Il secondo esperimento che abbiamo voluto fare per la comunicazione, di questo dobbiamo ringraziare il professor Martini del Dipartimento di Prestore dell'Università di Firenze, è stato un rilievo di una sepoltura preistorica e abbiamo voluto sperimentare su questa sepoltura i vari metodi di rilievo che avevamo e sui quali ci stavamo esercitando. Quindi abbiamo fatto, le abbiamo paragonati, abbiamo usato Evo e Umap, sempre concesso dalla Minci Software. Evo è l'evoluzione di Zscan, sostanzialmente il principio fotogrammetrico è lo stesso, ma non c'è più bisogno di un treppiede o di una barra, le foto vengono fatte a mano libera. Un D3D Catch è il programma open source del CAD, Photosynth e PMVS Bundle, anche questo open source. E la gestione dei modelli MeshLab, mentre comunicazione del prodotto, un D3D Catch ci permette adesso anche di fare video, quindi abbiamo sperimentato. Queste sono le immagini di partenza, quindi la sepoltura viene presa con la telecamera che ovviamente gira intorno. Questo è il principio che utilizza un D3D Catch, quindi varie prese di telecamera, principio fotogrammetico base. Diciamo che come tempo di elaborazione un D3D Catch ha una velocità quasi impressionante, un 5 minuti, fornisce la texture, punti una buona media, 160-2.675, abbastanza, una densità non eccessiva, non troppo accurata. Il problema nella texture di MeshLab, il D3D Catch è che ci siamo resi conto che tende a stendere, tende a tirare poligoni, ossia dove la nuvola di punti, dove non riesce a estrarre la nuvola di punti, spalma la texture, creando una texture fittizia. Quindi forse come risultato può essere applicabile per un grande pubblico, sicuramente perché ha una resa di grande effetto, però per chi deve magari andare a fare studi precisi, puntuali, ancora è un programma sul quale si può lavorare. Photosynth, altro programma open source, ha dato una resa bassissima per quanto riguarda la densità dei numeri punti, pressoché inutilizzabile. Il tempo di elaborazione è rapido, però mi dà un prodotto che non posso utilizzare né ai fini di studio né in realtà ai fini di divulgazione presso il grande pubblico perché è presso incomprensibile, non dà la texture. PMVS Bundler invece dà una densità di punti notevolissima, praticamente il doppio di quella che davano il 3D catch. Il tempo di elaborazione è un quarto d'ora, quindi è tutto sommato affrontabile, non mi dà la texture né ho possibilità poi di agganciarla alla nuvola di punti. Diciamo che dà una nuvola di punti che lascia alcune lacune sensibili, come potete vedere. L'ultimo esperimento è stato con Evo, che è l'evoluzione di Zscan, buona densità di punti leggermente inferiore a quella di Bundler, il tempo di elaborazione è sostanzialmente identico, non ha la texture ma Evo, come Zscan, prevede un post-processing che può essere applicato con Zmap e parte di questo post-processing è anche applicare la texture al prodotto tramite la triangolazione di dare foto. Quindi si crea una nuvola di punti sulla quale posso lavorare con poche lacune, precisione tutta sommata attendibile e la possibilità di applicare la texture. Ora dovrebbe arrivare il video e abbiamo deciso di baloccarci, tra virgolette, nel senso che uno dei problemi che ci sono sempre posti è come rendere il 3D anche visivamente a chi si avvicina o per la prima volta o visite museali, che sia anche una cosa attendibile e che renda l'idea. E questo è un video che è stato realizzato con dei 3D Catch. Quindi sicuramente rende l'idea buona resa, abbastanza spettacolare e non ha un'estensione che prende una memoria significativa quindi come avete potuto vedere abbiamo tirato un po' delle conclusioni da questi parziali metodi insomma di comunicazione dei nostri prodotti, principalmente noi utilizziamo come prodotti Zscan e Zmap, avete visto appunto il primo caso è quello più significativo, da poco utilizziamo anche Evo che è questo altro tipo di strumentazione che ancora è in fase sperimentale, ancora la stiamo iniziando ad utilizzare ma che comunque diciamo ci dà appunto dei prodotti se non altro metricamente e geometricamente affidabili e anche cromaticamente come avete visto, quindi diciamo che per il nostro tipo di lavoro è un prodotto che comunque può essere utile. Da questi casi studi quindi è possibile appunto tirare queste conclusioni cioè innanzitutto abbiamo un primo problema di divulgazione dei modelli di Zscan perché oggettivamente i modelli Zscan hanno nuvole troppo dense, voi pensate che per una sepoltura come quella ad esempio di quelle che abbiamo visto generata da un Zscan sono almeno un milione e mezzo, un milione e 600 mila punti, quindi nuvole oggettivamente troppo dense da poter utilizzare ad esempio sul web o compagnia bella e il fatto e anche la razionalizzazione di questi punti probabilmente andrebbe un po' a discapito del modello finale, quindi c'è un po' anche da riflettere su questo problema di divulgazione appunto di questi modelli. I tempi di divulgazione ovviamente sono medio lunghi molto più lunghi rispetto a questi software open source o evo stesso e altro problema che abbiamo trovato i modelli ovviamente open source non rispettano, c'è appunto un problema intrinseco almeno dei programmi open source che abbiamo utilizzato noi, cioè il fatto appunto come diceva Elena che la parte dell'operatore è una parte estremamente marginale nell'utilizzo di questi prodotti e quindi l'operatore nella maggior parte dei casi all'operatore è richiesto solamente di caricare le immagini e riceve il modello finito si perde tutto quello che è la parte di generazione del modello e quindi tutto quello che sta dietro diciamo all'esigenza dell'operatore stesso in fase di generazione. Offrono ovviamente risultati in tempi brevi con fari leggeri e fruibili come avete visto appunto con un dei 3D Catch quindi anche accattivanti appunto dal punto di vista visivo. In più del volto ovviamente i programmi proprietari richiedono appunto procedure specifiche e attrezzature costose, ora attrezzature costose anche nel caso degli open source perché non sempre ovviamente si possono effettuare foto anche con delle camere piuttosto, cioè anche più più economiche insomma di quelle che utilizziamo noi però ovviamente le attrezzature comunque sono da comprare, attrezzature non sono open quello appunto dicevamo anche prima con Simone. I programmi open source invece risultano sicuramente più semplici e intuitivi rispetto agli altri tipi di programmi. Nonostante appunto però la tecnologia ci permetta di sviluppare modelli tridimensionali sempre più accurati la committenza appunto in questo caso ci chiede ancora prodotti 2D come dicevamo prima e questo è un problema serio perché poi alla fine noi proponiamo ovviamente l'utilizzo di questi modelli 3D ma molto spesso è proprio la committenza che ci richiede questi prodotti 2D quindi a quel punto sta a noi diciamo decidere se effettivamente eseguire un rilevo tridimensionale o affidarci ancora al rilevo bidimensionale quindi produrre ortofotopiani, piante e prospetti alla vecchia maniera. Ovviamente ci sono anche altre possibilità di comunicazione del modello 3D come dicevamo prima abbiamo visto innanzitutto una valutazione più ampia del mercato di open source che l'abbiamo fatto vedere noi è probabilmente l'1% o 2% di tutto quello che offre il mercato sia in fase di generazione del modello ma così di gestione e di visualizzazione dello stesso. il PDF 3D, ho fatto vedere anche prima Andrea Fiorini un esempio appunto di comunicazione del modello 3D che penso sia una comunicazione eccezionale Sì, abbiamo provato a comunicare il PDF attraverso il PDF 3D comunque sembra appunto uno strumento eccezionale da questo punto di vista. La modellazione, noi con modellazione ci piace diciamo la modellazione come diceva prima Simone scusami, nel quale si integrasse un po' il lavoro dell'archeologo cioè quello che veramente resta dal rilevo tridimensionale pensiamo ad esempio alle fasi costruttive di un edificio storico lasciare quello che viene dal rilievo dell'edificio storico di un colore oppure magari lasciandogli la texture e il resto portarlo in trasparenza o di un altro colore quelle che sono le interpretazioni dell'archeologo delle varie fasi costruttive che ovviamente interessano l'edificio nel corso del tempo. Un tipo di modellazione di questo tipo secondo me è utile e è accattivante che sicuramente dà l'idea molto molto più concretamente di quello che può essere appunto la costruzione e l'evoluzione appunto edilizia non solo ovviamente dell'edificio ma di un intero contesto. Così il Warframe 3D, noi un metodo che abbiamo utilizzato ad esempio di comunicazione del prodotto che adesso non l'abbiamo potuto mostrare, è il disegno su un contesto specifico su un edificio, su un complesso architettonico attraverso appunto creando un volumetrico con le parti essenziali delle varie fasi costruttive e poi proporre un'evoluzione semplicemente in Warframe, quindi semplicemente attraverso delle linee. E ovviamente accanto a questo i WebGIS 3D, noi per esempio abbiamo utilizzato Sikar ancora la versione vecchia, ancora ci dobbiamo aggiornare, però abbiamo utilizzato spesso Sikar anche questo sebbene appunto si stia adattando all'utilizzo dei modelli tridimensionali siamo ancora ovviamente a nuvole di punti non troppo dense per problemi sovracitati e citati in precedenza anche da Simone, quindi per adesso diciamo è uno strumento che non si confa molto anche perché Sikar è uno strumento proprio per gli addetti ai lavori quindi probabilmente secondo me dovrebbe riuscire con ovviamente le dovute, dovuto passare del tempo a permettere la visualizzazione e la gestione anche di modelli più densi di quelli che gestisce adesso e poi ovviamente altre possibilità di comunicazione che ci avete fatto vedere e che ovviamente ci sono. Grazie. 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 Grazie.